Buonasera a tutti, pillola del DOT in movimento. Come vedete attrezzature sportive per la strada, strade pulite, sicurezza grazie alla Guardia Civil e alla Polizia Locale sempre presente, forse anche troppo qualche volta, centri culturali molto attivi, scuole nuove pulite, tanti motivi per trasferirvi e per trasferire le vostre famiglie qui a Tenerife. Alla prossima! Ciao! Alla prossima! Ciao! Ciao!